opere estate festival auguri veramente questi 40 anni ho tantissime immagini ma se le racconto faccio 5 minuti di video e invece sono 30 secondi in questi 30 secondi non posso che dire grazie per queste visioni pionieristiche che sono partite dalle comunità territoriali per arrivare al mondo in una vera e propria dimostrazione che è possibile partire dal piccolo per arrivare al grande e dentro questo mondo dentro questa comunità ho partecipato in parte mi avete coinvolto e quindi grazie spero davvero di andare avanti per 50 60 100 anni insieme auguri sono Pierangelo Valtinoni e la parola che associo al festival è opportunità opportunità nel senso che è grazie anche opera estate festival se le mie opere sono state rappresentate qui in italia in una cornice professionale ho molti ricordi di opera estate festival in particolar modo ricordo la simpatia dello staff che segue le diverse manifestazioni ma soprattutto la tipologia delle manifestazioni che molto varia perché tocca la prosa tocca il balletto tocca il cinema e tocca la musica e in particolar modo opera lirica mi resta quindi che augurare opera estate festival e questo sia soltanto il primo di una lunghissima serie di quarantennale se ti dico che cosa per estate è un attività dove il corpo si muove si fanno disegni ci sono i spettacoli si e si fanno nei centri storici nelle piazze nei prati ne ha anche le chiesette ci ci sono i bambini ci sono anche gli artisti grazie a tutti